Musica Sono in casa Ford, beh qui di carne al fuoco ce n'è davvero tanta si va dalle due nuove volume passando per la Berlina, la Mondeo fino alla Mustang ma ci spiega tutto Domenico Chianese, presidente di Ford Italia Siamo qui allo stand Ford del Salone di Parigi, tante novità di prodotto abbiamo qui dietro di noi la nuova Mondeo che lanceremo all'inizio del prossimo anno ma il salone non è solo la Mondeo perché ci sono veramente tante novità di prodotto che arriveranno a breve, oltre alla Mondeo anche la nuova Focus che lanceremo ancora prima a novembre poi nel secondo quarto del prossimo anno lanceremo la nuova C-Max, la nuova S-Max quindi rinnoveremo la nostra Max Family nella versione media e grande anche per quanto riguarda gli SUV e quindi la Edge che andrà a completare l'offerta Ford per quanto riguarda gli SUV di dimensioni maggiori e quindi oltre all'Ecosport, la piccola, la Cuga, la media la Edge che completerà l'offerta Ford degli SUV per quanto riguarda le macchine prestazionali e l'area dedicata alla ST ci sarà la disponibilità del motore diesel sulla Focus ST per la prima volta quindi un motore 2.0 diesel da 185 cavalli e poi la Mustang, questa icona americana che arriva in Europa, arriva in Italia nelle due motorizzazioni sia il 5.000 V8 ma anche un motore 2.3 315 cavalli EcoBoost disponibile per il mercato europeo italiano ma se parliamo di monovolume, beh, alle mie spalle c'è la nuova S-Max la ricetta in realtà è quella di sempre, cioè tanto spazio e una linea filante ma questa volta forse è ancora più filante visto che assomiglia alla Concept presentata a Ginevra sotto il cofano un nuovo 1.5 EcoBoost da 160 cavalli ma non finisce qui perché volendo c'è 5 o 7 posti, portellone elettrico e la possibilità di abbattere i sedili con un solo tasto modificata anche la sorella più piccola, la C-Max che vedete alle mie spalle nuovo lo sguardo, quello di famiglia adesso per intenderci ma nuova anche dentro con il nuovo SYNC 2 uno schermo da 8 pollici touch e sistemi di ausilio al parcheggio rinnovata anche la gamma motori, ora tutta Euro 6 entrambe però non le vedremo da noi prima del secondo trimestre 2015 ci sarà ancora un po' da aspettare adesso è l'ora anche della Mustang, la vedremo da noi entro giugno 2015 due motori V8 5000 da 418 cavalli o il quattro cilindri 2003 da 314 prezzi a partire da 36.000 euro